Menta a cura Alla gol per tutta scosta 1-0 dunque, raccolgo dei frutti del proprio dominio Hanno sfruttato al meglio un maggior possesso palla Capitalizzando una delle... E' vera L'impensore puro su questo tiro Hanno l'occasione, attenzione, per trovare il gol del pareggio C'è la CR7 Herrera Col che arriva a coronamento di un vero e proprio dominio Questo vantaggio strameritato Assolutamente Pierre, stanno giocando davvero Si avvicina l'area All'occasione per ieri del match Ed è collo! Rete! Avrebbero dovuto amministrare il meglio il vantaggio Brava comunque la squadra per serie a Nuna Batters Danilo Pereira Grazie a tutti!